Quindi il coro indica di Clusone ha questa grande opportunità di poter cantare proprio in Regione. Sì, questa è l'opportunità che ci è stata data con un invito ufficiale dal Presidente della Regione Roberto Maroni in quanto ha istituito il 29 maggio come festa della Regione Lombardia e verranno fatti dei premi a delle persone illustri o persone che sono messe in mostra durante quest'anno in Regione Lombardia e sarà il premio Rosa Camuna. Prima di questo premio che sarà alle ore 18 verso il Teatro della Regione Lombardia si era pensato da parte della Regione di effettuare un piccolo intrattenimento musicale con brani popolari lombardi e sulla loro richiesta e sulle loro esigenze è caduto sul coro indica l'invito di fare questa esibizione. Per noi siamo molto orgogliosi sotto due profili, sotto il profilo musicale per cui è quello che noi ci teniamo. E secondo, essendo che la Regione Lombardia, essendo noi lombardi, essere promotori del canto lombardo è motivo di orgoglio. Non è la prima volta che prendete parte iniziative simili? No, questa è la terza volta, prima volta o due volte con l'amministrazione Formigoni ma abbiamo fatto due concerti di Natale, che era una sorta di concerto dove la Regione portava avanti questo discorso per premiare un po' i cori dell'eccellenza lombarda. Però col passare degli anni, diciamo, è già due anni che non si effettuava questa manifestazione. Da quando è stata istituita invece questa della Regione Lombardia come festa della Regione, il 29 maggio, diciamo che questa è la prima volta che interviene il coro edica. Oltre a noi, la mattina, durante le 10, verrà fatta una piccola sfilata del Carroccio di Legnano, della Battaglia di Legnano. E la sera, dopo il premio, ci sarà un concerto di un'orchestra, di un coro a livello lirico. Ecco, ma perché in Regione? Perché il coro edica è promotore da sei anni della settimana del canto lombardo. Questa manifestazione che ha lo scopo di raccogliere tutti i brani popolari della Regione Lombardia e metterli su un volume. Neanche a farlo apposta, quest'anno, dopo la sesta edizione, che è nata proprio a Clusone sei anni fa, in collaborazione col coro Fiocco di Neve di Varese, una cosa l'abbiamo fatta in due, la facciamo partire il 6 di giugno, partendo proprio da Rovetta. Poi andremo a fare una serata a Bergamo, una serata a Pontida, una serata a Gallarate, un'altra serata a Bergamo, una a Seriate e la conclusione di questa manifestazione verrà effettuata al Sacro Monte di Varese. Questo cosa comporta? La Regione Lombardia ci sta dando una mano su questo cammino. Essendo noi promotori di sette festival, ma tuttora, o al giorno d'oggi, organizzare manifestazioni del genere è abbastanza difficoltosa, quella della settimana del canto Lombardo, che propone un coro ogni provincia della Regione Lombarda, per cui potremo ogni volume avere all'interno un brano di ogni nostra provincia. Questo dà orgoglio anche al coro di Ca' di aver portato avanti questa manifestazione e di poterla inserire in tutte le biblioteche, in quanto questi brani, che se non verranno scritti, diciamo che negli anni o nei decenni verranno persi.